E' stata presentata oggi al Teatro San Giorgi di Catania la Fondazione è Bene. La fondazione è stata costituita il 29 maggio 2012 ed è nata per promuovere attività di servizio e di solidarietà sociale con lo scopo di compiere azioni positive e disinteressate a favore di tutti e in particolare di coloro che versano in situazioni molto disagiate, agendo in più campi in considerazione della molteplicità delle esigenze e dell'approccio globale e multisettoriale ai vari problemi della popolazione. La fondazione è Bene, una struttura autonoma, una fondazione di partecipazione multiscopo in quanto non opera in un solo settore. E' uno strumento con cui si vuole rivoluzionare il welfare siciliano attraverso l'erogazione di servizi di prossimità ai cittadini fragili, realizzando preziose iniziative in ambito sociale e attuando interventi urgenti di assistenza a categorie debole in condizioni di fragilità. Oggi viene presentata a Catania la fondazione Bene, la fondazione dei luoghi e dei centri di prossimità. E' una nuova iniziativa che viene promossa dalla rete Solco insieme a importanti partner nazionali, fra cui il Banco delle Opere di Carità, l'Associazione Cittadini Europei, il Consorzio di Enerrete, il Consorzio di Lavoro, per portare avanti un'idea di nuovo welfare di prossimità per le persone più fragili. Abbiamo aiutato attraverso la rete Solco in Sicilia in questi anni tantissime migliaia di nuclei familiari con i nostri servizi, con le nostre attività. Adesso mettiamo a sistema queste iniziative e queste attività per affrontare alcuni temi che sono particolarmente emergenti nella nostra società e quindi il bisogno alimentare, il bisogno di salute, il bisogno di educazione, la formazione, l'inserimento lavorativo attraverso la rete dei centri di prossimità riusciremo a fare tutto questo e lavoreremo per costruire luoghi per fare tutto questo, luoghi che siano luoghi di partecipazione, quartieri, piazze, città, che possano consentire alle persone di incontrarsi e di lavorare insieme per il bene comune. Questa è l'iniziativa della Fondazione Bene, da qui parte un percorso e un lavoro di sviluppo di un nuovo welfare.